L'attenzione degli ambienti politici ed economici è puntata sul piano per il Sud che è stato presentato da Conte a Reggio Calabria, anche per meglio dire a Gioia Tavro con l'intervento anche del ministro per il mezzogiorno. L'attenzione è puntata su questo piano perché per la verità ogni governo ha sempre tirato fuori un piano per il Sud ma moltissime sono state le delusioni e possiamo dire che il Sud ha ricevuto la spinta iniziale con la cassa del mezzogiorno, con i piani tupini, con la intuizione di De Gasperi. Poi ad un certo momento il cammino, lo sviluppo, la crescita si è arrestata e sono cominciate in un certo senso le polemiche sulle responsabilità, sulla politica, sulle imprese. Ecco, insomma, il quadro si è fatto oscuro. Adesso c'è questo rilancio, un piano per il Sud, ma passare per il Sud per agganciare anche il Nord, una politica che sia di coesione per il nostro paese. perché, come si ricorderà, un scrittore del Risorgimento, disse l'Italia sarà quello che il Sud sarà, Dino Sorgonà. Ecco, ci spiega in dettaglio che cos'è questo piano per il Sud che potrebbe rappresentare la svolta per il nostro paese che potrebbe, come dire, mettere in moto la ripresa che per la verità non si vede ancora all'orizzonte. La sintesi del nuovo piano per il Sud è in questa frase del Presidente del Consiglio Conti mai più rassegnazione, mai più disagio non vogliamo più narrazioni tossiche per il Sud il Sud deve diventare sinonimo di eccellenza e da qui un piano fino al 2030 che parte dal fatto che il PIL procapite del cittadino che abita nel Mezzogiorno è pari alla metà di quello del Nord e il piano quindi prevede investimenti, infrastrutture e nuove opportunità per i giovani sono previsti oltre 123 miliardi fino al 2030 ma nel periodo 2020-2022 21 miliardi le misure prevedono innanzitutto verso i giovani si punta ad investire su tutta la filiera dell'istruzione a partire dalla lotta alla povertà alla povertà educativa minorile per rafforzare il capitale umano ridurre le insuguaglianze e riattivare la mobilità sociale il piano infatti prevede e mira a scuole aperte tutto il giorno poi un'estensione della nota Axarea senza penalizzare le università e attrazione dei ricercatori al Sud poi c'è una parte relativa al cosiddetto Green New Deal al Sud un grande abbraccio fra economia ed ecologia per realizzare alcuni obiettivi specifici dell'azienda ONU 2030 contro i cambiamenti climatici ma fondamentale sono le infrastrutture sociali e in particolare investimenti anche su treni e alta velocità si cerca di portare il percorso Roma-Reggio Calabria come quello nello stesso tempo che passa Roma-Torino cioè entrambi sono distanti di 700 km e Conte dice il percorso dovrà essere fatto in 4 ore ma vediamo se tutto ciò non dovesse accadere se tutto ciò non dovesse accadere continuerebbe la fuga della popolazione del Sud soprattutto fra coloro i quali hanno 25-35 anni cioè la maggior parte dei laureati per cui fra 20 anni sarà la popolazione meridionale sarà meno di due terzi rispetto al settentrionale e questo vuol dire innanzitutto una riduzione del reddito inoltre dal 4% degli anni 70 al 55% attuale un aumento della disoccupazione e poi ancora di più i cittadini del Sud conteranno anche meno politicamente e quindi conteranno anche meno nella ripartizione del bilancio pubblico